Piazza Mattei di Acqualagna torna ad essere la piazza più profumata al mondo in occasione della 54esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco in programma l'1, 2, 3, 9 e 10 novembre. Il primo appuntamento, la cerimonia ufficiale con il taglio del nastro, è prevista per domenica 27 ottobre al Teatro Conti. L'evento poi vedrà più di 50 eventi collaterali tra cooking show, incontri culturali con ospiti e personaggi della tv e concerti. Non mancherà l'intrattenimento con il Museo Interattivo del Tartufo, ricco di tecnologie digitali e realtà virtuali, laboratori per bambini e il pala tartufo. Noi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare quest'anno veramente delle eccellenze nazionali e internazionali, in primis Neri Marco Re, che rappresenta anche, che è l'ambasciatore della Regione Marche, potremmo dire, per quello che riguarda l'attenzione alle aree terremotate. Abbiamo un'altra eccellenza che è Brunello Cucinelli, quindi imprenditore stilista del Made in Italy, che ci rappresenta nel mondo e poi abbiamo la presenza dello chef stellato, con tre stelle Michelin, che è Uliassi Mauro. Quindi questo è quello che sarà la connotazione della fiera quest'anno. I numeri ci dicono che abbiamo 12-13 aziende che operano nel settore tartufo, abbiamo più di 20 ristoranti, siamo solo un piccolo comune con 4.500 abitanti e arrivare alla 54esima fiera vuol dire che c'è consistenza, c'è voglia di fare, c'è professionalità, c'è competenza. In più l'indotto, siamo sui oltre 20-30 milioni di euro, quello che riguarda l'attività collegata al tartufo e questo sicuramente per le aree interne è occasione di respiro e sinergia e energia e non dimentichiamo che Acqualagna nel suo territorio ha il furlo, il furlo che è una bellezza naturale, che è meta turistica da tanto tempo, da anni e anni e quindi se abbinate una visita alla nostra fiera nazionale del tartufo, sia a livello culinario ma anche a livello ambientale, fate un'ottima scelta. Vi ricordo il 27 ottobre via l'inaugurazione della 54esima fiera. Il tubo più prezioso di Acqualagna dunque sarà il grande protagonista di un programma ricco di appuntamenti visibile sul sito acqualagna.com